Ciao, se anche tu sei vegano o vegetariano, ti propongo questo piatto della linea Planted. Come vedi ci sono due tipologie diverse di gussi, ma ce ne sono moltissimi. È 100% naturale, senza additivi, con proteine di piselli. Vedi come qua c'è scritto 100% vegetale, senza additivi e come vedi ricco di proteine di piselli, senza soia, scusa il mio gatto. Io lo congenerò questo perché scade il 25-10 e lo mangerò un po' alla volta. Ed è l'unico tipologia di straccetti che a me piacciono e piacciono particolarmente tanto. Ti mostro come, prendendo un prodotto che costa di base 3,99€ per 160 grammi, quindi in realtà comprandolo al 50% io l'ho pagato invece di 3,20€ 1,60€. Ma avevo anche un buono di 1€ perché su ognuno di questi c'è un buono di 1€, quindi io l'ho pagato solo 60 centesimi. Ho preso il più possibile che potevo con una spesa che vedrai poi, che ho fatto per i miei genitori e andrò a prenderne altri ancora perché 60 centesimi è un prodotto di questi che costa quasi 4€, quasi 3,20€, direi che è un ottimo affare. Quindi io per ora ti saluto, ti ringrazio per aver visto, se vuoi avere altre litte di questo genere sia per vegetariani che per vegani che per onnivori ti consiglio di seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Sì perché nella mia famiglia ci sono anche onnivori, io sono l'unica vegetariana di casa. Ti saluto e alla prossima, ciao!